Riparte l'attività parlamentare nel segno della legge elettorale che arriva in commissione, ma le posizioni tra i partiti restano distanti tra divisioni e calcoli elettoralistici in vista del ritorno alle urne a primavera. Da parte sua il governo cerca di intercettare i segnali positivi che giungono dall'economia per ridurre la disoccupazione giovanile attraverso misure di decontribuzione fiscale per le aziende che assumono a tempo indeterminato. Fa riferimento alla possibilità di avere una decontribuzione che oggi indicativamente definiamo nell'intorno del 50% dei oneri previdenziali che vorremmo destinare stabilmente alla platea dei giovani e qui non è definita. Altra partita aperta è quella delle pensioni con l'ipotesi allo studio di un taglio dei contributi previdenziari pari al 50% fino ad un limite di 3.250 euro per i giovani fino a 29 anni di età. La prossima settimana invece, quando verrà predisposto il calendario dei lavori, si conoscerà il destino di due dei provvedimenti più attesi, quello sullo iussoli, ossia la legge di cittadinanza ai bambini nati in Italia da genitori stranieri, e quello sui vitalizi.